Buonasera ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, stavolta sul calciomercato, è stata una giornata pesante, oggi per noi interisti una giornata davvero difficile, davvero difficile, però partiamo per gradi, perché comunque adesso è arrivata una notizia giusto poco fa, che quasi ufficializza l'arrivo di Sanchez all'Inter, quindi la definitiva acquisto da parte dell'Inter, addirittura per un contatto di 3 anni, per 7 milioni all'anno, caspita, niente male per Sanchez, però ancora non ci sono ufficialità, però sembrerebbe la trattativa sia andando a buon fine, quindi già questa è una buona notizia, però poi farò un video su ufficialità, quando sarà ufficiale, poi sul sito come ben sapete faccio sempre video ufficiale, quando Alexis arriverà lo farò. Argomento Conte, argomento Conte, ho sentito delle voci pazzesche, ho fatto l'intervista a Lanza che praticamente sembrerebbe che rimanga a un contratto, lui vuole rispettarlo, vuole comunque a tutti i costi trovare la vittoria, insomma le solite robe. Ora vediamo un po' se parlerà effettivamente con la società in privato, stiamo un po' a vedere, perché io sinceramente, sinceramente, ho avuto incubi, ho sentito Max Allegri, Massimiliano Allegri, no, per favore no, per favore no, vi prego non facciamo sta minchiata, piuttosto se proprio mettetevi d'accordo tra di voi, trovate una quadra, fate pace, ascoltate Conte, ascoltatelo, qualunque cazzata lui debba dire, ascoltatelo, perché comunque deve in ogni caso essere sempre accontentato, purtroppo è così, lo paghi tot milioni l'anno, devi comunque accontentarlo, che cosa devi fare, così mi paghi, per carità, voglio questo, voglio questo, Lukaku è arrivato, l'altro è arrivato, Eriksen, un altro mister, non si ci sono varie cose, comunque, fatto sta, che sinceramente, se Conte non dovrebbe, non dovrà, non sarà confermato, e andranno via, costarà un sacco di soldi per andarlo via, quindi non so quanto convenga all'Inter, però faremo una grande minchiata, io mi auguro, mi auguro davvero che, di chiunque sia la colpa, non mi interessa, noi vogliamo bene la nostra Inter, la nostra Inter deve essere di nuovo competitiva, vincente, come vogliamo noi tifosi, avete stufato, avete stufato queste cose, società, che uno non è d'accordo con quello, dovete far vincere la nostra Inter, perché ci siamo rotti davvero le palle di vedere un Inter, tutte le volte, queste pagliacciate, siamo stufiti queste pagliacciate, che caspita, siamo arrivati ai secondi, dico, secondo posto, non è scudetto, però caspita, dopo dieci anni che non facevamo una stagione quantomeno decente, quattro confitte, tanti pareggi, però poi quando se ne esce così, si è un po', anche lui ha fatto i suoi errori, aveva fatto l'errore anche la società, ora, vediamo di trovare una quadra, per favore, tra allenatore e società, perché sinceramente mi sto un po' rompendo, mi sto un po' rompendo, quindi hanno entrato i tre anni, rispettiamo questo contratto, vediamo come va questo progetto, perché tutte le volte, parli di progetto, 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 poi ogni anno si ricomincia sempre da zero, quindi io mi auguro davvero, a sto punto, che è un caso anche di sconfitta in Europa League, cosa che io spero ovviamente di arrivare fino in fondo, chi lo sa, sarà un sogno alzarlo, non lo so, però, ora, trovatevi una quadra, adesso vediamo mercoledì, sarà una partita importante col Getafe, a breve farò il gameplay pronostico, e vedremo come andrà, se continueremo la nostra strada, cosa che io mi auguro veramente, e quando sarà finito questo torneo, in negativo o in positivo, spero che si siederanno su un tavolo, in ufficio, capire, ora, come la mettiamo, sta storia, continuiamo, andiamo avanti, ora, ci sono voci pure su, su un dombele, che lo vogliono scambiare con, con Skriniar, questo centrocampista non l'ho mai visto giocare, sinceramente, è uno di fisico, un centrocampo, uno di cui ci serve, è uno confisso al centrocampo, bisogna vedere se è un buon giocatore o meno, quello non lo so, Tottenham ha pagato 60 milioni, bah, mi varrà veramente, tutti i soldi, tutti i soldi, queste valutazioni un po' così, comunque, sul mercato, insomma, quello che balla di più è sull'allenatore, in questo momento, Alexis Sanchez quasi sicuro, è un dombele, se veramente l'interazione di prendere, però se diamo via Skriniar poi, in difesa, ce ne manca sempre comunque uno, di un certo livello, bah, stiamo a vedere, ragazzi, ora, sarà un'estate pesante, già lo so, già lo so, già abbiamo concluso la stagione così, di Serie A, Orchel Europa League, ci sarà da impazzire tutto il mese di agosto, ci sarà da impazzire tutto il mese di agosto, poi Serie A comincerà il 19 di settembre, quindi praticamente un mese e mezzo, e già si ricomincia con la solita con la solita tiritera, poi il mercato finirà il 2 ottobre, ragazzi, sarà, questo 2020 è pazzesco, fino a fine anno, fino a fine anno solare, 2020 sarà, ci sarà da, da impazzire in tutti, in tutti i sensi, in tutti i sensi, staremo a vedere, ragazzi, ci vediamo tra poco, gameplay pronostico, Inter Getafe, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ciao, forza Inter!